Nel comune di Vespolate, a soli 12 chilometri da Novara, Arte Casa Immobiliare propone questo casale composto da due unità immobiliari indipendenti, un grande giardino e una vecchia stalla in ottime condizioni, ideale per chi necessita o desidera uno spazio adeguato per i cavalli. L'appartamento principale, in ottime condizioni, è composto al piano terra da un soggiorno con camino, una cucina abitabile con accesso diretto al gazebo e un bagno. Al piano superiore, tre camere da letto, uno studio, due bagni e un balcone. Il secondo appartamento da ristrutturare è posto al primo piano ed è composto da soggiorno, cucina con terrazzo, due camere e un bagno. Completano la proprietà diversi locali accessori molto utili e caratteristici dell'epoca. Per tutte le informazioni, Arte Casa Immobiliare. Arte Casa. L'arte di vendere case.